Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Favij, Rupert Zenzel, attenzione, volevo fare un dead mencino con il mio amico Luca Lader, li potremmo davvero, cioè è morto, è suscito domani, volevo cambiare un attimo la pelle. Oggi abbiamo un magnifico dead mencino, oggi scelgo assassino, che è di colore, e mi metto il cappello da sbirro, sono uno sbirro, invito Johnny Stechino, il mio amico Luca Lader, per un dead mencino, ricerca di una partita compatibile. Bella a tutti ragazzi, sono Favij. E che dicevi di Favij? No, non è Favij. Ancora lo stile? L'unica cosa che disprezzo di lui è che ha copiato palestamente un altro canale, si è fatto i soldi così, non è quello che mi ha detto, è schifo. È schifo Favij, non che io lo invidi, ma fa veramente schifo un po' per sale. L'altro è un amico, di un amico, di chi? Non posso fare una roba, veramente? Sì, me lo conosco? Attenzione, la partita comunque, è già cominciata, io sono uno sbirro nero. E adesso sono invisibile, sono più nero. Ragazzi, allucinante, sono diventato un lume. Sì, ma quando mi impari a giocare a Favij? Smetti di chiamarmi in corso, non si dice una parola. Ah no? No, ma chi l'ha detto? Eh, me. Se io fossi un amico, come? È un tuo coscienza che mi dice questa cosa. Sì, adesso mi creo una gamma di haters, così divento famosa, come fa molta gente. Sì, adesso dovresti smetterla con questa amocubria, se non mi chino nel canale. Sì, mamma, già tanto che è online questo canale. Che cazzo vorresti dire? Bastardo handicappato. No, 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 è il senso che è, siamo sfigati, capito? Sfigati. Tu siamo sfigati. Sei già marrotti con io, adesso, il giorno di male. Tutto il 31 marzo verrà cancellato, mi ha dato l'ermano male. Io non ho male. Io non ho male. No, adesso devo rimanere. Ma tu sei, sei un moglino. Quando a cazzo succede? Oh, cazzo. Cazzo più. Oh, che bestemmi, seri. Eh, mi viene da un tempo. Non si bestemmi. Prendonate l'atteggiamento di questo zingaro del mio amico Valer. Del mio amico Valer. Mi vergogno anche di dire amico. Tanto confette, Edwin. Ma porco. Non bestemmiare. Sei peggio di una scena. Le bestemmi. Ah, non consiglio. Voglio, devo iniziare il suo sponsor, la cosa giuriglia. Che ci permette di fare questi video bellissimi. Finita anche questa partita da nudo. Terzo posto, guarda. Non lo dite. Non lo dite. Ove c'è sei. Cazzo il gioco di un'altra. Mi chiedi giù, non vedo l'ora che vi ho fatto il tuo marzo. Beh, ragazzi, dopo questa vi lasciamo. È stato bello anche per questa domenica. Ciao belli, alla prossima. Conte domenica, infatti. Ciao. Ciao. Ciao.